Incidente nella serata di domenica 2 giugno poco prima delle 19 in via 25 aprile all'incrocio con via Roma a Castellamonte a scontrarsi una Citroen C1 guidata da una donna e un Ducati Panigale condotta da un 45enne e con a bordo una ragazza di 39 anni. L'impatto è stato alquanto violento. Secondo una prima ricostruzione la vettura ha fatto per svoltare in quel momento la moto ha sorpassato impattando contro l'auto ma della dinamica esatta si stanno occupando i carabinieri di San Giorgio Canavese. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze di Castellamonte, una di base e una di soccorso avanzato e l'elicottero del 118. Il centauro e la ragazza sono stati elitrasportati all'ospedale CTO di Torino, illesa la conducente dell'auto. Grazie per la visione!